Sulla meraviglia del suo destino evolutivo, che cosa bisogna pensare di tanti medium e sensitivi? Commento Durante l'attuale iniziazione generale, ma l'iniziazione generale sempre presente nella storia dell'uomo, un numero sempre maggiore di individui e oggetto, o crede di essere oggetto, di fenomeni paranormali. Spesso i fenomeni sono solo esercizi dell'io, ma ugualmente fanno meditare l'individuo sulla meraviglia del suo destino evolutivo.